Dal contagio covid e il rischio scuola al piano delle opere pubbliche appena approvato, dal futuro amministrativo e politico della città ai prefabricati di Montefescovado, con un rapido commento su quello che si sta verificando in Italia con l'avvento di Mario Draghi e le capovolte di alcuni partiti, sino al manifesto per l'agro, una sinergia necessaria tra i diversi comuni per far sì che il territorio e i suoi cittadini possano sperare in un futuro migliore. Sono gli argomenti affrontati durante il filo diretto con il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Turquato e che andrà in onda al termine di questa edizione del telegiornale. Tutti gli argomenti sono di estrema attualità, vi proponiamo uno stralcio sulla vicenda covid nelle scuole. Visto che quotidianamente diffondiamo, apprendiamo, leggiamo di notizie giornalistiche, aumento dei contagi, bomba scuole, insomma sembra di stare a Chernobyl, io con tutto il rispetto per una situazione che non intendo affatto minimizzare continuo ad attenermi ai dati e ai numeri. I dati e i numeri ci dicono ad oggi che il numero dei contagi nelle scuole è sicuramente cresciuto perché parliamo di 39 casi, anzi di 40, esattamente con i tre di ieri aggiuntivi del liceo scientifico parliamo di 42 casi per l'esattezza su una popolazione scolastica di 11.114 persone, cioè non arriviamo allo 0,2%, non l'1, lo 0,2%, quindi è la ottava, la quinta parte dell'1%, non so se vediamo la misura. E c'è una preoccupazione eccessiva secondo lei? No, io credo che c'è un bombardamento psicologico che si regge su due ordini di ragione, anzi su tre. La prima è sicuramente la giusta preoccupazione per ragioni sanitarie ed epidemiologiche che non richiede minimizzazioni, però poi c'è quella che il virologo Palù, uno dei più importanti al mondo, in Europa sicuramente, un virologo italiano, quelli che non vanno spesso in televisione, anzi tutti i giorni in televisione, per cui non capisco quando facciano i medici, visto che stanno sempre in tv, ma uno di quelli che non ci vanno ed è in un organismo europeo per la microbiologia e la virologia ha detto c'è una infopandemia, non solo una pandemia, c'è una diffusione morbosa della notizia pandemica su cui apriamo e chiudiamo la notizia giornalistica la mattina fino a tarda sera.